Infatti per esempio prima di venire qua siamo andati due giorni a Bolzano da Lorenzo Magri ospiti per avere la pista libera, per sentirci tranquilli in un gruppo molto ristretto e riservato. Loro a Londra non hanno trovato questa situazione e quindi sono andati a cercarla da un'altra parte e hanno trovato la proposta di Patrick Lozon di andare in Canada e si sono buttati. Per adesso sembra funzioni molto bene. Sì, loro hanno preso questa decisione e tra l'altro John Danner ha proprio stato chiamato dalla federazione spagnola per creare la scuola a Madrid, poi però c'è stato questo richiamo in patria a Londra e quindi poi da lì il cambiamento. Intanto il punteggio dell'atleta belga 35-11 e dunque in questo momento ovviamente per lei non c'è la qualificazione. Andiamo a seguire insieme l'ultima atleta di questo gruppo, poi ci fermeremo per il rifacimento del ghiaccio Monica Simancicova, rappresentante la Slovacchia. Terza nelle preliminari. E anche questa è una ragazza che conosciamo molto bene ma ne parleremo poi al termine della sua prova. Bel doppio axel iniziale. Triple flip, giretto su un piede doppio tolupo, ancora buona la combinazione. Grazie. 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 Triplo salco fantastico, enorme. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 È importantissimo per lei aver ottenuto questa situazione.